Salve a tutti amici youtube e benvenuti in questo nuovissimo video Ritorniamo a parlare di auricolari True Wireless Ovvero quegli auricolari che riprendono le forme e il modo di essere utilizzate Delle Airpods, Airpods di prima generazione, Airpods di seconda generazione Airpods Pro con cancellazione attiva del rumore Adesso però sono davvero tantissime le alternative Abbiamo visto le Jabba 65T, abbiamo visto le Bose, abbiamo visto le Jaybird di tutti i colori Abbiamo visto le Pamu, ne abbiamo visto davvero tantissime Trovate una playlist nella i in alto qui nella vostra destra In cui ho racchiuso tutti i video fatti finora Il segmento dei concorrenti si è evoluto tantissimo E devo essere onesto oggi ci sono tantissimi prodotti validi Al contrario dell'inizio quando davvero beccare un prodotto che fosse sì bello Ma non altamente funzionale era estremamente facile Oggi parliamo di queste Soundcore di Anker Liberty 2 Attenzione non sono le Pro Spero di poterci mettere le mani al più presto Perché quelle saranno dotate anche di cancellazione attiva del rumore Queste qua sono la versione normale In vendita su Amazon ad un prezzo di circa 99€ Partiamo subito dalla confezione perché c'è davvero tanto tanto da dire Sono degli auricolari che ho provato per andare a correre nell'uso quotidiano Per chiamare per ascoltare musica davvero per fare qualsiasi cosa per cui sono state progettate E adesso finalmente sono pronto a dirvi come vanno Confezione all'interno della confezione c'è la custodia con la batteria per la ricarica Gli auricolari ovviamente e poi una serie di gommini ed archetti di varia misura In modo da poterle adattare facilmente arrivo alle vostre orecchie Mi raccomando questa è una procedura sulla quale dovete perdere un po' di tempo Io per esempio con questi particolari auricolari mi sono ritrovato con l'auricolo Ho messo i gommini nella stessa taglia, medium e medium Di solito per quanto riguarda le mie orecchie quella è la taglia che mi va meglio Tuttavia ho notato che quello destro mi calzava un po' più piccolo rispetto a quello sinistro Quindi su quello destro ho messo un gommino di taglia un po' più elevata Quella subito dopo, la L E adesso mi trovo esattamente bene Cosa succede se il gommino è troppo piccolo? Beh vi ritrovate con un isolamento non perfetto E quindi è come se metteste male un tappo per l'orecchio Per cui sentite sì l'audio che viene riprodotto comunque dall'auricolare Ma entra anche tutto il suono dall'esterno Quindi non è proprio il massimo della vita Perché sentite poi un audio un po' avattato, troppo leggero E rischiate di rimanere delusi dagli auricolari Ma non perché gli auricolari vadano male Semplicemente perché non avete scelto il gommino giusto Quindi attenzione, è che capita molto molto spesso È capitato anche a me Per cui immagino che possa capitare anche a tantissime altre persone Per quanto riguarda i materiali La custodia è in plastica Sembra un po' cippaltato A me non piace tantissimo questa plastica qua lucida Perché uno raccoglie lo sporco Due raccoglie le impronte Tre Dà una forte sensazione di economicità E essendo le cuffie proposte ad un prezzo di circa 99€ Non è proprio il massimo Avrei preferito insomma una finitura esterna un po' più curata Simile a quella per esempio delle Jaybird Vista che ho testato tempo fa Si apre con questo bellissimo meccanismo Secondo me è davvero bello da vedere Tuttavia poi diventa un po' difficile prendere gli auricolari Perché dovete agganciarle dall'archetto e sollevarle Nulla di drammatico ci fate l'abitudine Però insomma da segnalare Nella parte anteriore ci sono tre led che segnalano la ricarica residua della custodia Quindi con un led c'è circa il 30% Con due led circa il 60% Con tre led c'è sì c'è il 100% Nella parte posteriore invece uno sportellino nasconde la USB di tipo C per la ricarica Poi c'è un pulsante che consente di effettuare l'abbinamento per la prima volta Una volta tolte dalla custodia si accendono in automatico Fate l'abbinamento col vostro smartphone C'è anche un'applicazione che permette di equalizzare e personalizzare l'audio Non è nulla di essenziale Potete anche non scaricarla Però sono compatibili comunque con l'applicazione di Soundcore Che abbiamo già visto in passate recensioni Ho notato però un funzionamento un po' anomalo Ovvero se voi estraete tutti e due gli auricolari e le mettete all'orecchio Vanno in modalità stereo Se ne togliete uno e lo rimettete nella custodia Quello lì però non si spegne Perlomeno ci mette un po' a spegnersi Non si spegne immediatamente Se invece estraete un solo auricolare Quello lì funzionerà in modalità mono La cosa bella di questa cosa qui è che c'è anche il bluetooth 5.0 E quindi i due auricolari funzionano singolarmente in modalità mono Anche perché ci sono quattro microfoni Due su ciascuno auricolare Che consentono veramente di avere un audio per le chiamate di qualità elevatissima Anche perché i microfoni sono dotati di soppressione del rumore Per cui non sentirete i disturbi di sottofondo che vi circondano Una cosa che per chi usa gli auricolari per fare tante chiamate È sicuramente fondamentale Queste vanno benissimo Anche perché le potete utilizzare sia in modalità stereo Cosa che le vecchie Zolo Liberty non consentivano Sia appunto in modalità mono Sia per l'orecchio destro sia per l'orecchio sinistro Quindi in modalità mono potete usarle anche mentre guidate Gli auricolari poi sono fatti davvero bene Nella parte inferiore ci sono i contatti per la ricarica O meglio due contatti e uno è il magnete Sono speculari quindi sono esattamente identici Nella parte superiore c'è un pulsantino In entrambi gli auricolari se lo premete una volta Mettete pausa o rispondete alle chiamate Se lo tenete premuto attivate l'assistente vocale Oppure rifiutate le chiamate quando avete una chiamata in entrata Se premete due volte l'auricolare destro Il pulsante sull'auricolare destro Passate al brano successivo Se premete due volte il pulsante sull'auricolare sinistro Passate al brano precedente Quindi molto intuitivo Purtroppo non vi permettono di cambiare il volume Secondo me sono molto belli Facili anche da indossare Come potete vedere Sono un po' grossini Non grossi come le Bose SoundSport Free Ma comunque più grossi per esempio delle Jaybird Vista Tuttavia ho notato che sia nell'uso quotidiano Sia durante le sessioni di sport Di running Io faccio prevalentemente corsa Sono molto 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 stabili Non avete mai l'impressione che gli auricolari possono cadere E quindi abbandonare il vostro orecchio E eventualmente rischiare di perderli Quindi sotto questo punto di vista Davvero tutto alla perfezione Parlando poi di autonomia Sul singola ricarica C'è un'autonomia di circa 8 ore Difficilmente ci arriverete O fate davvero un viaggio lungo In cui vi tenete gli auricolari E ascoltate musica per tutto il tempo Oppure difficilmente ci arriverete Io non ci sono mai arrivato a scaricare gli auricolari Sul singolo utilizzo Ho fatto alcuni viaggi in treno Ma della durata di due ore Per cui quando li togliete Poi viene automatico Metterle all'interno della custodia E loro si vanno poi a ricaricare automaticamente Quindi con questa tipologia di utilizzo Non le scaricherete mai A meno che non vi fate Una sessione sportiva di 15 ore Allora lì rischiate di scaricarle Ma in una giornata normale Non la scaricate Anche perché sono dotate di ricarica rapida Per cui con 10 minuti di carica Ottenete circa un'ora di ascolto La custodia invece permette poi Di caricare le auricolari Per un'altra trentina di ore Adesso non ricordo bene il valore Però dovrebbe essere un'altra trentina di ore Scusate per questa piccola imprecisazione Passiamo però finalmente all'audio Come suonano? Beh se andate sulla pagina di Amazon Trovate il link qui sotto in descrizione Vedrete che la descrizione Riporta una copertura diamantata Per quanto riguarda i driver Ora io non ho modo di verificare Se questa copertura diamantata ci sia o meno Presumo di sia Altrimenti non verrebbe utilizzata A scopo di marketing Però devo dire che con questi auricolari Mi sono trovato molto bene Hanno un audio ben preciso Si sente tutto alla perfezione Non è sbilanciato per quanto riguarda i bassi Cosa che io non gradisco tantissimo Se volete gli auricolari che pompano Forse i Bose sono migliori sotto questo punto di vista Questi sono gli auricolari davvero molto bilanciati Hanno un audio, un ascolto piacevole E non rinunciano a nessuna frequenza Forse quando alzate tanto il volume Gli alti non sono proprio precisissimi E le frequenze medie tendono leggermente a perdersi Ma dovete avere proprio un orecchio tanto allenato Per il resto invece davvero ottime E soprattutto potete ascoltare anche film e musica e video Senza delay tra audio e video Quindi assolutamente sotto questo punto di vista Non c'è nessun problema Non solo grazie al Bluetooth 5.0 Ma questi auricolari funzionano particolarmente bene Quindi devo dire promosse sotto ogni aspetto Forse a 99€ si scontrano con altre alternative Comunque valide A me sono piaciute tantissimo Bello è la ricarica di USB tipo C Bella la custodia Avrei preferito un materiale più gripposo Perché questa d'estate Se avete una tasca leggermente aperta Tenderà tanto a scivolare Il rischio di perderla è davvero elevato Bello il meccanismo Un po' complicato togliere e inserire l'auricolare fuori e dentro la custodia Per il resto autonomia, audio, microfoni Tutto alla perfezione Anche modalità mono e stereo va alla perfezione Io non posso fare altro che consigliarvele Fate però Magari non acquistatele in maniera impulsiva Ma aspettate qualche promozione Se le trovate all'incirca sugli 80€ 70€ Boh, affare fatto Questi sono auricolari di cui non vi pentirete Oltre ad avere poi la garanzia su Amazon Che è una delle migliori Fatemi sapere voi se l'avete provata Io non vedo l'ora di provare la versione Pro Per questo video è davvero tutto Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo come al solito Alla prossima recensione Ciao 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 Ciao